Ciao a tutti ragazzi, allora oggi giochiamo a The Hunter Primal, ovviamente da un sacco di tempo che l'avevo preso, solo che non ci ho mai fatto un gameplay perché ero talmente preso da Ark che ho detto poi lo farò ma non l'ho mai fatto, quindi direi che è venuto il momento di farlo, quindi cominciamo subito. Ovviamente puntualizzo che non è la prima volta che ci gioco, quindi non so un tubo, so solo che dobbiamo seguire il punto sulla che abbiamo andato sul nostro GPS, qui c'era un frammento di mappa, ovviamente ho creato una mappa privata dove ci sono solo io, quindi va bene così. Vediamo un po' tutti i comandi Allora, questo mi abbasso e mi posso mettere anche questo, mi rialzo. Ok, fino a qui ci siamo Non so se c'è un tasto per correre, non ne ho idea Ma funziona così male sti comandi? Vada Ma perché non ci sono gli strafe? Scusa ma Non straffa! Ma che cazzo di comandi ci stanno su sto cazzarola di gioco? Possibile che tastiera, non ci stanno i spostamenti laterali, ma che è una presa del culo? Muove formule, move left, vabbè, left, vabbè, vabbè Non ci stanno i strafe? Strafe left, strafe right, no non c'è un cazzo? Devo tenere così? Vabbè Ah, run C, vabbè, buona sapienza Certo C run è una zozzeria, era meglio su spazio Comunque Un truccio su control, vabbè Strano che non ci stanno sti cazzo di strafe Non ne ho idea Usa item, vabbè 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 Diciamo che abbiamo più o meno un piano di lavoro Però così funzionano gli strafe, però No, mi sa che forse ero a limitare della mappa Perché non si spiega, se no Oh, sono influenzabile dal fatto che giro la visuale, che cazzo Perché? Sta cosa non riesco a spiegarmela Perché fa così? Ma perché? Ah, forse ho capito No, no, mi funziona Se vede che ho premuto un tasto che mi metteva tipo la visuale che magari potevo vedere il personaggio Che ne so Qualcosa mettiamo via e tiriamo fuori il GPS Vediamo se troviamo qualcosa Questo che è in sassetto Sassetto non solo sbattemo Mi sa che Se non trovo qualcosa qui Famo notte Vabbè Fondamentalmente devo salire qua sopra Però è un problema perché Non penso che sia Messner Nostra signora Visto che non posso scegliere un nome Ho deciso che La chiamiamo Zia Silvana Come quella di Ark Quindi Nostra zia Vedo un po' se ce la farà la zia Che dire Ogni tanto me Ah, lo posso raccogliere con il Sassetto Che ci faccio col sassetto? Lo magno? Oh, vabbè Eh, cosa più importante Come si usa nei armi Ah, qui c'è la mappa Ah, vedi? Sto andando da tutta l'altra parte Così fammi il giro dei peppe Proprio Che è, oh Cozzio Mi fate più alicorpi Che non mi pare creato Ma non mi va a stare altra parte Perché A me pare più diretta Comunque, boh Ho raccorto sti sassi Che non si sa che cazzo rocce Si è detto fa Non ho capito Ah, eccolo Perfetto Il nostro macete Con il macete Spacco tutto Non lo so Per me mi sa che Mi ammazzano con il macete Cioè taglio qualcosa Con il macete Niente Vabbè Rimettiamo GPS Non ci serve adesso Il macete Finché incontro qualche cosino piccolo Sicuramente Ci si fa poco Ma vedi Mi dice lì Le rocce raccolte Che non so a cosa servono Appunto Forse magari per distrarre i nemici Che ne so Mi devo documentare un po' di più Su sto gioco Perché ovviamente Siamo sforniti Ecco La strada è quella giusta O se riusciamo a trastaccampamento Magari Ci permetterà di andare avanti Non lo so Se dovesse iner il video Un po' troppo lungo In caso farò qualche tagliuccio Perché non si può Finire a fare tutto il tempo Tutta sta strada Buffo Perché Come si sa È normale Non si può Perde tempo Tre ore e mezzo Qui a camminare A fare deficiente Anche potrei Correre Però il discorso È che Se c'è qualcosa Che è De ostile Cazzo Sento rumori Molesti Come mettere sto cazzo Se macete Non si sa mai Io almeno ci provo A menare Magari farò il video Più corto della storia Però insomma Ok Cazzo è Cazzo è Sento rumori Ma che cazzo è Eccolo Oh cosa Cazzo Sì 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 Ottomila De questi Ciò Sì Sto fino all'endurance Dai Dai Caricami All'endurance Penso che sia il momento di cuore Sì, duemila Sai che abbiamo finito già prima di ricominciare? Vabbè che insomma non c'avamo niente C'avamo un macete del cazzo Niente di che Poi manca Ammazzi questo coso Manca i bio più che altro Gli piassi? Potevo pure capirla sta cosa No comunque Sta cosa non si spiega No Non lo so Mi pare una stronzata Ma poi è che tanto pure poppo Non so dove però è poppo Ok Ovviamente non abbiamo nulla da prendere Non ci frega niente Riprendi Ok Ripriamo se la roba Quella stupida Il macete Il frammento di mappa Che va qua Non ho comprato un'altra cosa Io ando sto adesso E se io sono morto qua E mo sto qua E chissà Come cazzo Rolai Una bella cosa Cioè per ritornare là Impossibile Quindi Cioè dovrei passare da qua Ritornare là Guarda una stronzata A me che non mi butto a fiume Però butto a fiume Magari c'è il megalodonte Perché sicuramente C'è qualcosa del genere Megalodonte Piragna Qualsiasi altra cosa Ci dovrebbe stare Come abbiamo ben capito Non potremmo menare Quanto cazzo ci pare Perché c'è mo l'endurance Qui ti ammazzi Dove se riesco a far giro Aspetta Lì c'è un coso Se riesco a arrivarci Ma te pare Che deve sempre Oh meno male Potete capire Il telefono Quanto rompe le scatole Forse magari qualcuno Che non so Chiama Che ti dice Magari non so Un amico Non so Parente No Pubblicità Stuta Del cacchio Oppure Qualc'altra Rottura di scatole Oppure addirittura Magari quelli che Ti rispondi E praticamente Alla fine C'è nessuno Rottura di scatole Speriamo di arrivare A sto drop Del cacchio Ci dovrei stare Diciamo che Come va va Se ce la faccio bene Se non ce la faccio Vabbè Concluiamo quel video Vediamo un attimo Ce ne sono due Di troppo Mi basterebbe Prenderne uno E se ci fosse Un po' di roba Che dico io Per il momento Non sento rumori Certo Ho avuto la pessima idea Di abbassare troppo L'audio L'audio Serve a sto gioco Perché Senti rumori Ci sono quasi arrivato Eccomi Sto arrivando Eccomi Dove cazzo Sei il fiorino? Forse è qua sopra Dove cazzo Dovrei starci Eccolo Ok Un altro frammento De map Sì ma Lo devo mettere qua Vabbè Vabbè Non ci frega niente Dei proiettili Per il fucile a pompa Bellissimo Averlo il fucile a pompa Andiamo De qua Che cazzo Cazzo ce te lo fa Ma chi sassi Non lo so Però ma All'ultimo Poi se Ci salutiamo Per me All'ultimo Non ci arrivo Moro prima Ho preso il funghetto Sì La direzione È quella giusta Noi fiori no Noi fiori no 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 i fiori no Annaccia le fiori Eccola Dimmi che c'è un'arma No le frecce È una specie Di fialetta gialla Che Cosa cazzo Curativo Livello basso E mo Che mi ha invento E barze Vabbè Vabbè ragazzi Decido che concludiamo Qui il nostro video Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che il gioco Vi piaccia Spero sicuramente Di sì Non lo so Noi ci vediamo presto Come al solito Non so Se vi piace il gioco Magari lo so Fatemelo sapere Nei commenti Io magari La butto lì E provo a metterci Un episodio 1 Poi se vi dovesse piacere Magari farò il secondo Se no magari Lo lasceremo soltanto Come video unico Ragazzi Un saluto Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao